Bella Yube, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction della finale Francia-Argentina Ah no, dove stasi? Ragazzi partite importantissime perché è una finale Quindi Forza Argentina Perché sarà scelta così? Ma dai ragazzi Che giocata Che è a largo da fare Tira Alvarez Subito, subito Contro cuore Ma non c'è nessuno La larga Tira No Bellissima No Tira Maroc Giro Oh Mamma mia Bello Vigore 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 non è decisivo lui non è decisivo è il censo si rispetto rispetto è il numero uno devi rispettarlo è il futbol è il futbol il video il video chi l'ha detto che la decideva di pari il monopiede ragazzi è finito il primo tempo partita bellissima emozionante e strepitosa dell'argentino e quindi ci vediamo con il secondo tempo esatto mamma mia staglia mamma mia mamma mia bravi 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 tu cosa fai devi pensare nooo non è il specchio con mezzo non è il specchio con mezzo non è il specchio con mezzo ma dai l'appartiere ma dai ma dai perché dobbiamo regalare le cose ma dai Fai di calinare! No! Fai di calinare! Non ci grido! Non ci grido! È una volta da cinquante! Non abbiamo ancora in tre volte! Non ci grido! 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 Ma non ci fa parlo! Brava! Bravo! Messi! 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 Francesco! Vem? Dai! Bravo! La balsa, la balsa, la balsa, la balsa, la balsa. La balsa, la balsa, la balsa, la balsa. Anzi, è finito il primo tempo di supplementarla. Bravo! Myu! Myu! Con il giovane! Bu! Per il giovane! ziale! Sal! 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 no 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 mano in aria mano in aria mano in aria è rigore no è dai 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 ragazzi non sta facendo un pucchiaio ragazzi che fa un pucchiaio e il martinale si butta la torta in croce che c***o porco è in croce di nuovo psicologicamente la mamma è sbagliata in croce di nuovo ma come vede? ma sei un p***o ma dai ma dai ma dai tre attri siamo a fare e lei come un ebole forse è l'ultimo caso e se va la mance l'ha dentro l'ha dentro l'ha dentro mamma mia mamma mia l'ha parato l'ha parato l'ha dentro l'ha dentro l'ha dentro l'ha dentro dai dai porzi dai di bano dai di bano dai di bano dai di bano dai 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 Non ti senti troppo. Non ti senti troppo. Ma che cazzo è tu? Guarda te la fa. Guardi la testa. Si, guardi. Si, guardi. Dai, dai, dai. Guardi, non riguardi la centina. Non la sbaglio. Non la sbaglio. Dai, bravo. Guarda. Centrale. Si, guardi. Si, guardi. Dai, dai. Non lo vado, sbagliato. Se lo caga. Se lo caga. Esiste un Dio, è argentino. No, no, no. Va bene, va bene. Dai, dai. Dai, non sbagliato, non sbagliato. Ma ancora diamo la scuola a destra, ragazzi. Ti credo. Centrale. Non sbagliato. Si, guardi. Non. 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 VAMO CARACO! VAMO CARACO! RISPETTO! PER IL MIGLIORE DEL MONDO! RISPETTO! Lui l'ha vinto! Poi al di là naturalmente delle passioni... SIE! VAMO CARACO! Cazzo! Andiamo! Oh, aspre, aspre! Oh, ma io ti guardi qua, facciamo Messi e tutti guardi qui! Sei cazzo! C'è da questa banda! Ho... Gi..... Messi... 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 SUCC-